Videosorveglianza a Mergozzo. Saranno piazzate una ventina di telecamere nel capoluogo e nelle frazioni con un investimento da parte dell'amministrazione comunale di quasi 50.000 euro. L'installazione partirà nel mese di settembre. Tre occhi elettronici con lettura targhe anche notturna saranno montati agli ingressi in paese ad Albo, Prato Michelaccio e sulla strada da Fondotoce, aggiunge il sindaco Paolo Tognetti. I fondi arriveranno dalla variazione di bilancio in discussione stasera in Consiglio Comunale, con un avanzo di amministrazione che permetterà con una parte importanti investimenti. Oltre al sistema di videosorveglianza, un cofinanziamento con trasferimento al Parco Nazionale della Val Grande per un nuovo museo dedicato alla pietra che troverà spazio nell'ex asilo di Albo, in prossimità della cava madre del Duomo di Milano. E il rifacimento del tetto di alcune proprietà comunali, compreso l'attuale museo. Ha fatto discutere sui social intanto l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, la sdemanializzazione e il declassamento di un tratto di strada sterrata in località Portaiolo, quella che porta alla Rustica, dove si sta realizzando un nuovo residence. Il sindaco ha spiegato si tratta di 25 metri quadrati che insistono sulla strada comunale, che attualmente sono di proprietà del privato che sta realizzando la vicina nuova struttura ricettiva. La strada comunale poi finisce all'interno della proprietà dello stesso privato. Permuteremo il nostro terreno che ricade sul loro con quello del privato che incide sulla strada.